Ha ottenuto un grandissimo successo la serata di beneficenza organizzata dall'Associazione L'Aquila per i più piccoli Ollus e dal Dipartimento Solidarietà Emergenza Abruzzo, in collaborazione con il Comune di Ocre, in provincia dell'Aquila. L'evento, dal titolo Carnevale Solidale, si è tenuto giovedì scorso e ha visto la partecipazione di tantissime persone. La serata è stata ricca di musica, divertimento e soprattutto solidarietà. I presenti hanno potuto gustare una deliziosa cena buffet, ballare e partecipare a una divertente lotteria di beneficenza. Il ricavato della serata sarà devoluto al progetto di foresteria al reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. La foresteria, lo ricordiamo, offre un alloggio gratuito alle mamme dei neonati prematuri o ricoverati in terapia intensiva, provenienti da fuori l'Aquila. Il reparto di terapia intensiva neonatale è diretto dalla dottoressa Sandra Di Fabio ed è un centro di eccellenza che si occupa della cura dei neonati più fragili. La serata di beneficenza è stata un momento di festa che ha dimostrato la grande generosità della comunità aquilana, un importante sostegno per le tante famiglie che si trovano ad affrontare momenti davvero difficili.